Una milanese così non si può dimenticare. Io non sono alta perché io la chiamavo alta, sono grossa, no? Difatti è qui da vedere, adesso andiamo a renderle omaggio. Grazie. È come una mamma, per me è stata una mamma anche non avendola conosciuta, ma solo leggendo la sua poesia. Perché una persona che si esprime così, non è importante che lo dicano i cattolici, che lo dicano chi ha religione, chi non ne ha o chi ne ha tante, ma è sempre più vicina a Dio di quello che tanti pensano. Era quello del suo modo trasgressivo di affrontare la vita che colpiva. Un'amica. Ogni uomo della mia vita era il verso di una poesia, perduto, straziato, raccolto, abbracciato. Ogni amore della mia vita è cielo e voragine, è terra che mangio per vivere ancora.